Primo giorno di lavoro all'Aquila per il colonnello Nicola Mirante, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri. Al suo attivo tante esperienze, la maggior parte delle quali finalizzate al contrasto della criminalità organizzata, dirigendo diverse operazioni nei confronti di sodalizi camorristici. Il colonnello Mirante ha anche medaglie d'argento al Valor Civile per aver salvato una famiglia rimasta intrappolata all'interno della sua abitazione nel corso di un violento incendio. Prima di approdare all'Aquila ha svolto diversi incarichi nello stato maggiore del Comando Generale dell'Arma e Carabinieri, già comandante peraltro della prima compagnia del dodicesimo battaglione in Sicilia e comandante della compagnia di Avellino e del reparto operativo di Caserta. Sono arrivato in un territorio che è veramente bellissimo e affascinante e voglio e desidero dare il massimo impegno per continuare nella tradizione dell'Arma dei Carabinieri di essere vicini alla popolazione, alla cittadinanza e rispondere nel più breve tempo possibile a tutte quelle che sono le esigenze e le criticità che si vengono a creare. I target principali sui quali lavorare sono la tutela della legalità e della sicurezza. Laddove ci sono flussi ingenti di denaro legati alla ricostruzione, ha detto il colonnello, la sensibilità dovrà essere sempre maggiore. Noi puntiamo molto a quello che è il rispetto dell'ambiente, il rispetto della legalità anche e soprattutto nella gestione di questi grandi flussi economici che stanno arrivando. È un importante momento per costruire insieme una società migliore.